Allora, parto da una cosa che non abbiamo detto in questi giorni. Abbiamo parlato molto di Agenda 2030 e oggi vorrei concentrarmi sul pezzo che invece è Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Che cosa è questo sviluppo sostenibile? Andiamo a dirlo in due parole finali, da un punto di vista proprio metodologico, educativo. Come possiamo parlare, costruire un discorso sullo sviluppo sostenibile nella scuola? Ecco, l'idea di fondo di questo discorso è che ci sia un concetto fondante, che è quello di ecosistema, ecosistema tra uomo ambiente, tra umanità e terra, come diciamo più correttamente oggi. Tra tutta la sfera umana, l'antroposfera, e il pianeta che ospita la specie umana, con cui avvengono interazioni costanti. Allora, ecosistema umanità-terra che cosa vuol dire? Ecco, ecosistema deriva dal eco, una parola che significa famiglia o casa. È molto importante questo concetto. C'è un'idea ecologica e l'idea che in una famiglia non si debba spendere più di quanto si guadagna. Lo stesso in una casa mondo. L'idea è che sul nostro pianeta noi possiamo vivere bene non utilizzando, non spendendo, metaforicamente, più di quanto il pianeta ci mette a disposizione. Cioè le risorse che come umanità trasformiamo costantemente per rendere migliore la nostra vita sul pianeta. Vedete che in questo modo, parlando sempre del rapporto uomo-natura, siamo nel cuore della geografia di nuovo, siamo nel cuore della geografia e del discorso sempre, che è un discorso di relazioni. L'ecologia in questo senso è veramente il vedere che c'è un sistema sul pianeta di relazioni costanti che include la natura, che include i sistemi umani, la cultura, l'economia, la società, la politica. Ecco perché la geografia, qualcuno ogni tanto dice, la geografia parla un po' di tutte le cose. E' così perché per capire davvero come cambia l'ambiente, come l'uomo si relaziona alla natura, come trasformiamo le risorse, come abitiamo il pianeta, dobbiamo imparare a ragionare in modo complesso. Vedere come tutte queste cose, queste grandi categorie, in qualche modo corrispondono poi a dei comportamenti, a delle azioni, a delle decisioni che prendiamo. Il fare nella vita di tutti i giorni e poi al paesaggio che costruiamo, trasformando l'ambiente del pianeta. Ecco, una delle idee di fondo che spiega il successo del concetto di sviluppo sostenibile è proprio quella di questa inclusività. Lo sviluppo sostenibile non è soltanto l'ambiente, la natura e la vecchia educazione ambientale, che pensava soprattutto a salviamo la natura. No, qua ci sono tre capi salvi che sono la natura, ma anche l'economia e anche la società. Ecco quindi il cerchio che si chiude. Sviluppo sostenibile della natura vuol dire, secondo i principi dello sviluppo sostenibile, un consumo delle risorse non più rapido della capacità delle risorse di rinnovarsi. Ecco perché questa grande distinzione tra risorse rinnovabili e non rinnovabili. Potenzialmente sono tutte uguali, ma quelle rinnovabili continuano a essere disponibili ogni giorno nella stessa quantità. Quelle non rinnovabili, semplicemente perché hanno tempi di rinnovamento lunghissimi, a volte di milioni di anni, se le utilizziamo in eccesso, alla fine non le troviamo più. Non solo, come capita oggi, lo vediamo con i combustibili fossili, carbone, petrolio, gas naturale, se utilizziamo queste risorse in modo eccessivo, causiamo anche squilibri nei sistemi ambientali. La concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è certamente un esempio di questo tipo di situazione. Un esempio che ci permette di capire quanto tutto sia collegato nel nostro sistema Terra. Eccolo qua, ecosistema umanità Terra. Noi liberiamo anidride carbonica nell'atmosfera, bruciando carbone, gas, petrolio, e il risultato è che cambia il clima. Cambiando il clima cambiano i nostri paesaggi, il nostro modo di vivere. Mettiamo in difficoltà tutti i sistemi ambientali, la biodiversità del pianeta. Prendiamo decisioni politiche, abbiamo discussioni nella società, cambia l'economia. Tutto è strettamente collegato. Dalla natura, passiamo allora all'economia. Permettetemi, sono tempi anche un po' di preoccupazione di aver inserito qua una piccola vignetta di qualche tempo fa. Lo sviluppo sostenibile della natura non può non essere collegato al modo con cui ci procuriamo da vivere, cioè all'economia. Come noi lavoriamo, come noi trasformiamo le risorse del pianeta include chiaramente uno sguardo che riguarda come la società vive, come abitiamo il pianeta, come l'ambiente naturale cambia e ci fornisce delle risorse e come noi le trasformiamo. Lo sviluppo sostenibile dell'economia non può non includere quindi anche lo sviluppo sostenibile della natura, anche solo per il semplice motivo che se esauriamo le risorse a disposizione dobbiamo cambiare il modo di vivere quando non le abbiamo più a disposizione, ma ovviamente è molto più complessa la questione. Dobbiamo pensare a un cambiamento nell'uso delle risorse naturali, ma anche, attenzione, molto importante quello che ci dice l'agenda 2030, lo sviluppo sostenibile dell'economia deve riguardare anche l'equità, la giustizia sociale, il lavoro e quindi dobbiamo pensare in particolare anche a un'economia che garantisca benessere a tutta la popolazione. Quindi sì, tocchiamo il tema dell'energia, il tema dei rifiuti, il tema della globalizzazione, il tema del come trasformiamo le risorse, il tema dell'inquinamento, ma dall'economia, parlando di sviluppo sostenibile, dobbiamo includere anche il tema dell'equità, il tema della giustizia sociale. Vedete che in questo modo è inevitabile arrivare alla società, a questa immagine con cui abbiamo aperto, se vi ricordate il primo incontro, il tema della diversità in positivo e della disuguaglianza in negativo. Il mondo è pieno di varietà, abbiamo detto, e noi siamo felici con la geografia di insegnare questa straordinaria varietà del mondo, ma questa varietà è fatta anche di ingiustizia, fatta anche di cose che sono, come anche l'inquinamento, negative. Quindi varietà che la geografia insegna a riconoscere in due differenti valori, quello positivo della biodiversità, della diversità culturale, per esempio, e quello negativo della disuguaglianza, dell'ingiustizia, anche dell'insicurezza, della guerra. Ci sono temi, obiettivi specifici dell'agenda 2030, specificamente dedicate a questi argomenti. Ecco, ho cercato in questi primi minuti di darvi proprio un quadro generale su cui si può muovere l'intero curriculum. Questo è un discorso anche per la programmazione. Noi possiamo muovere tutto il curriculum, dare senso a tutto ciò che insegniamo attraverso questo dualismo tra umanità e terra, che poi, se pensate, alla fine quello che andiamo a insegnare è proprio che queste due categorie non sono separabili, non sono completamente visibili in modo indipendente. Quando parliamo di società dobbiamo parlare di politica, di economia, quando parliamo di economia andiamo alla natura, quando parliamo di natura non possiamo non vedere come l'uomo la trasforma con tutte le sue attività. Insegnare questo, insegnare a vedere queste relazioni, è un insegnare a pensare, un insegnare a pensare in modo critico, ed è veramente il cuore dell'educazione geografica. Io sto cercando in modo molto semplice in questi giorni di accennare a queste cose. Andiamo allora adesso a tornare al nostro mondo, alle nostre slide più tematiche e andiamo a vedere altri aspetti applicati della Agenda 2030. Abbiamo visto nella prima lezione in più in particolare un discorso sul mondo, in generale sulle tematiche. Nella seconda abbiamo visto di più l'Italia e l'Europa. Adesso andiamo a vedere di nuovo i continenti e gli stati, cioè a dare un supporto anche all'aspetto regionale. Vedremo poi degli approfondimenti, come ci permette di fare questa slide. Adesso faccio un piccolo zoom che ci permette di vedere un po' come funziona questa modalità di lettura. Possiamo vedere i temi e localizzarli. Questa è l'idea della geografia, è veramente il cuore dell'educazione geografica. Vedere che i problemi sono nei luoghi e sono differenti dal luogo al luogo. Quindi noi continuiamo sempre a lavorare a scali diverse, a scala globale, a scala continentale, a scala nazionale, a scala locale, perché è questo che costruisce la capacità di pensare spazialmente. Questa è la competenza di fondo che la geografia va a costruire, con tutto il suo curriculum. Allora ecco l'importanza anche di visualizzare, visualizzare, localizzare e poi naturalmente andare a vedere nel dettaglio. Questa slide era solo per farci una prima idea. Andiamo a zoomare in qualche modo, a cambiare di scala, per dirlo in modo più corretto. Vedete la stessa visualizzazione, la proponiamo alla scala europea e viene proposta poi nei manuali e in tutti i diversi continenti. Questo è anche una cosa importante da dire, perché fornisce veramente uno strumento di apertura e di lavoro. Credo che avere una parte di studio regionale che si fa sempre in aula, secondo anche delle scelte dell'insegnante, ecco avere la possibilità di avviare lo studio regionale non solo nel modo canonico, con tutte le informazioni generali per categorie, ma sempre anche col tema dell'agenda 2030, ecco questo possa essere una risorsa veramente importante. Parliamo dei problemi, ne parliamo in generale, ma andiamo a localizzarli, a vedere dei singoli esempi naturalmente, perché avremo bisogno di centinaia di ore di lezione solo per parlare dei problemi più rilevanti delle diverse parti del mondo. Non è questo che si può fare, non è questo poi lo scopo anche di una lezione scolastica, lo scopo è dare un'idea naturalmente, non di fornire una quantità esagerata di nozioni, ecco perché esempi, dobbiamo dare degli esempi. Vedete qua il tema sull'Europa, ci permette di vedere anche esempi positivi, non solo problematici. Riferiamo al caso della Danimarca che sta quasi completamente abbandonando l'uso del petrolio come fonte di energia. La Danimarca si è data l'obiettivo per il 2030 di arrivare al 100% di energia prodotta da fonti rinnovabili. D'altra parte abbiamo problemi, per esempio nel Mar Baltico, nel Mar Nero, l'inquinamento delle acque sta producendo zone morte, zone totalmente prive di vita marina e quindi qui andiamo a toccare l'obiettivo 14, cioè i mari, la vita nell'acqua. Più verso sud, qui nelle esemplificazioni abbiamo indicato in Grecia il problema della sanità, dei diritti anche alle cure, una delle conseguenze più negative della crisi del 2008. Anche qui vedete andiamo su un tema sociale, le cure, il diritto all'assistenza sanitaria, un tema pensate quanto è rilevante oggi di fronte al coronavirus. Un altro problema rilevante, non solo per il punto in cui qui lo localizziamo, ma che ci permette poi di produrre altri infiniti esempi, l'innalzamento delle acque dei mari come conseguenza del cambiamento climatico. La regione francese della Camargue, che credo tutti conosciamo e amiamo anche, rischia di scomparire, non soltanto la Camargue, abbiamo l'esempio di Venezia, della laguna Veneta in Italia e di tante altre spiagge locali. Perdendo tratti di costa perdiamo tratti di biodiversità, perdiamo città, perdiamo relazioni uomo-ambiente come quello speciale della Camargue dove midificano i fenicotteri rosa, vivono cavalli selvaggi e si coltivano dei vigneti straordinari. Allora, ecco, l'importanza, vedete di nuovo, di muoverci a scale diverse. Questo è un po' l'idea di fondo. Io presento qui, ovviamente in questi incontri non possiamo andare nel dettaglio del singolo problema. Il mio tentativo è di darvi un'idea anche metodologica, didattica, di come si può insegnare la geografia. Ricordo anche per tutti quanti che la Lesher metterà a disposizione sui suoi canali, credo istituzionali, forse anche il canale YouTube, i video delle registrazioni di questi incontri. Quindi chi ha perso quelli precedenti o vuole rivederli, utilizzarli in aula e in altre situazioni potrà utilizzarli. Ci saranno comunque informazioni su questo. Allora io proseguo il mio viaggio nel mondo, la mia carrellata di questa mattina intorno ai temi dell'Agenda 2030. Ecco, Agenda 2030 per l'Africa, eccola qua. Abbiamo una situazione molto importante. L'Africa è certamente il continente con più problemi aperti dal punto di vista dell'Agenda 2030. È veramente un caso importante. È il continente in cui la povertà è più diffusa. È il continente in cui la percentuale di persone che soffrono la mancanza di un'alimentazione adeguata, di un reddito sufficiente, di vaccinazioni, cure mediche, acqua potabile, scuole è più elevata. Ecco quindi perché andiamo a vedere in Africa il problema della povertà estrema, il problema dell'analfabetismo, il problema della mancanza di acqua potabile, il problema anche del patrimonio culturale africano che è enorme e va protetto. Ed è molto difficile farlo con poche risorse. Così come vedete il tema delle ultime foreste primarie del pianeta, il tema della biodiversità da difendere. Come ci si può muovere, come possiamo intervenire. E anche qua presentiamo casi specifici regionali, oltre al quadro generale, ricordo poi sui volumi voi trovate tema per tema tutti i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 trattati per ogni continente, ma anche piccole schede sui singoli paesi con cui possiamo andare di nuovo a focalizzare l'attenzione, a portare l'attenzione su un problema specifico in un luogo. Questa è la scheda che è dedicata all'Etiopia, in cui il tema è il problema della desertificazione come conseguenza del riscaldamento globale. In un paese molto povero, nel quale l'alimentazione, la sicurezza alimentare dipende in gran parte dagli orti personali, dalle persone, dalle coltivazioni dei contadini locali, non da approvvigionamenti che arrivano in altro modo, una siccità, una carestia possono voler dire morire di fame. Questo è un problema molto diffuso in Africa. Non solo. In Etiopia si coltiva tantissimo il caffè. Il caffè etiopico è uno dei migliori al mondo e l'Etiopia è il primo produttore africano di caffè. Col cambiamento climatico questo tipo di produzione, che è una delle poche, poi possiamo discutere naturalmente sui problemi che danno tutti gli alimenti fatti per l'esportazione, ma è una delle poche fonti di ricchezza per il paese e per i suoi contadini. Il cambiamento climatico minaccia questo tipo di produzione, ne minaccia la qualità e quindi rende difficile il cambiamento poi dell'economia, soprattutto in un paese come questo, nel quale le risorse economiche per i cambiamenti sono estremamente limitate. Andiamo a vedere l'Asia, continuiamo questo viaggio molto rapido anche di oggi tra i continenti, ma che serve un po' proprio questo? Darci l'idea che i problemi sono globali e hanno diverse situazioni locali che cambiano. Uno dei principi dell'educazione geografica allo sviluppo sostenibile è proprio questo. Abbiamo problemi globali, ma le soluzioni locali sono estremamente diverse. Per qualche paese del mondo Agenda 2030 significa ridurre i consumi, ma per qualche paese può significare aumentarli, perché la giustizia sociale, il permettere di avere a tutti una vita decorosa, deve portare anche a una ridistribuzione delle risorse e delle opportunità. Eccoci sull'Asia. Sull'Asia mi è molto difficile parlare, perché l'Asia è un continente che oggi include metà della popolazione mondiale e più di metà delle grandi cose di cui bisogna parlare per capire come funziona il mondo. Il continente asiatico è veramente immenso, oltre a essere, lo sappiamo, fondamentalmente un unico continente fisico con l'Europa, l'Eurasia, e lo sappiamo quanto siano strettamente collegati, lo abbiamo visto anche in queste settimane. Alcune cose dell'Asia si sanno, oltre che non si sanno. Mentre l'Africa è un paese di grande povertà, l'Asia è un paese, è un continente di enormi contrasti. L'Asia ha i paesi più ricchi del mondo e anche i paesi più poveri del mondo. Ha un grandissimo numero di poveri e nello stesso tempo ha le aree più ricche e sviluppate del pianeta. Pensiamo a Dubai, di cui spesso parliamo, Singapore. Quindi gli obiettivi per l'Asia sono davvero tantissimi e vanno dal tema del lavoro, dell'equità sociale, al tema dell'istruzione, al tema del cambiamento climatico, nel sud-est asiatico popolatissimo è un tema fondamentale oggi. Ma in Asia troviamo anche il tema dei conflitti, del Medio Oriente che continua a essere l'area più instabile del pianeta, un'instabilità molto forte di cui sentiamo da tantissimi decenni notizie costanti di guerre, di conflitti che rendono instabile poi anche il resto del pianeta. E' anche il continente più popolato l'Asia. Essere il continente più popolato ed essere il continente destinato anche ad essere sempre più popolato nei prossimi decenni, anche se l'Africa è più in crescita, vuol dire che questo sarà il centro del mondo, in qualche modo, nel bene e nel male. Produrrà innovazioni, produrrà idee e cambiamenti con i quali dovremmo confrontarci. Allora, entriamo un po' con uno zoom anche qua sull'Asia e entriamo nel tema della disparità di ricchezza, della povertà. Voglio parlare di un tema che è un po' meno noto, si pensa all'Asia prima di tutto oggi dal punto di vista economico. La disparità di ricchezza all'interno degli stati e fra gli stati è uno dei problemi più grandi dell'Asia oggi. Qatar, Macau e Singapore sono tra gli stati più ricchi del mondo, ma abbiamo paesi nei quali si fa fatica a sopravvivere. Lo Yemen, a cui si riferisce questa immagine, un paese bellissimo, tra l'altro, è uno dei paesi oggi più poveri del mondo. Delle statistiche è quasi sempre l'Afghanistan, il più povero, ma dobbiamo andare anche un po' oltre i dati statistici. Questo rispetto all'Africa significa milioni di persone in più, cioè ci sono più poveri in Asia che in Africa, perché è un'area molto più densamente popolata. Ecco perché l'obiettivo 10 dell'agenda, cioè ridurre l'ineguaglianza all'interno delle nazioni e fra le nazioni, diventa in Asia un problema che poi è anche politico e sociale, oltre che economico. arrivando a zoomare, a cambiare la scala a livello più locale, a livello di una singola città, vi vorrei far vedere questa fotografia di una zona di Jakarta, siamo in Indonesia, la capitale dell'Indonesia, una città con oltre 10 milioni di abitanti destinati a diventare più di 30 milioni nei prossimi anni. Una città con una crescita rapidissima, come in tutte le grandi città dell'Asia. Una crescita, ricorda un po' quella dell'Italia degli anni 60, ma estremamente più gigantesca e rapida, piena di contraddizioni. E le contraddizioni più forti sono proprio queste, l'estrema polarizzazione tra povertà e ricchezza. In Jakarta, che è comunque una città molto ricca per il sistema economico del paese, abbiamo però la maggior parte della popolazione che è povera, che vive negli Islam, che sono estesissime baraccopoli, prive di fognature, prive di acqua potabile, prive di energia elettrica e privi di servizi essenziali, come ambulatori medici, scuole, posti di sicurezza. Questa è una delle condizioni del mondo contemporaneo, è una delle condizioni che sta purtroppo crescendo anche in Africa, in America Latina e in piccola parte anche in Europa, cominciamo a vedere questa polarizzazione tra chi sta bene e chi sta male. Uno dei temi centrali, eppure, dell'Agenda 2030, la riduzione dei divari, delle differenze economiche e dei divari sociali. C'è un altro problema che colpisce Jakarta. Jakarta è una città costruita su una fitta rete di canali, ma l'innalzamento del livello dei mari, a causa del cambiamento climatico, del scioglimento dei ghiacci, sta trasformando Jakarta in un caso di cui sentiremo parlare, come Bangkok, come Miami, come Venezia, come tutte le grandi città e le aree abitate e affacciate sul mare. Succede una doppia cosa. Da un lato il mare si alza per questi motivi, dall'altro la terra si abbassa. Si abbassa essenzialmente perché l'acqua viene pompata per le attività umane e questo produce un fenomeno di subsidenza. Questo doppio fenomeno, da una parte l'innalzamento dei mari, dall'altro l'abbassamento della terra, fa sì che fra 30 anni forse Jakarta sarà sotto il mare. Vedremo se non saranno presi provvedimenti molto difficili a oggi da pensare che possano essere attuati. Vedremo dei cambiamenti nel profilo delle linee di costa del pianeta, penso anche alla Plata in Argentina per esempio, veramente incredibili e purtroppo estremamente drammatici per milioni e milioni di persone. Cambiamo continente e questo ci aiuta anche a capire che i problemi sono comunque ovunque, anche nelle aree più ricche o apparentemente ricche del pianeta. Ci sono milioni di poveri anche nei paesi più ricchi del mondo, anche negli Stati Uniti. Allora eccoci nel Nord America. Anche le aree più ricche del mondo, per come funziona il sistema economico oggi, producono diseguaglianze sociali molto forti. Così siamo andati a indicare per gli Stati Uniti, parlando di Agenda 2030, proprio questo dato. Negli Stati Uniti ci sono 100 milioni di poveri, pensate su una popolazione di poco più di 300 milioni di abitanti, il 30%, mentre metà della ricchezza della nazione che produce più ricchezza al mondo è nelle mani dell'1% della popolazione. Obiettivo 10 dell'Agenda 2030, la riduzione di questa forbice, di questa disuguaglianza che sta aumentando ormai da molti decenni. Ognuno ha i suoi problemi. In Canada, per mantenere l'attuale livello di ricchezza, sfruttano le sabbie bituminose per estrarre petrolio. Questo processo però è altamente inquinante e nocivo per l'ambiente e per l'uomo. Questa è una ricchezza a breve termine che in uno, tra l'altro, dei paesi più belli del mondo dal punto di vista naturalistico, sta producendo dei danni che avranno effetti a scala globale. Anche questo sta tra le scelte, le decisioni che dobbiamo prendere. Allo stesso tempo, se scendiamo verso l'America centrale, troviamo paesi molto poveri come Haiti, lo sappiamo, paesi dove abbiamo grandi problemi di parità di genere, come il Guatemala, a cui è riferita la fotografia che avete visto qua di fianco, o paesi come il Messico, dove nonostante la crescita economica, la corruzione, la presenza di organizzazioni criminali, sta rendendo il paese molto instabile e insicuro. Il tema quindi della sicurezza. Passiamo al Sud America, vediamo anche qua un'area di cui si parla molto poco, anche dal punto di vista di problemi ambientali, tranne che per la foresta amazzonica. Quindi saltiamo adesso di parlare immediatamente di foresta amazzonica, che è il tema che conosciamo tutti di più, ma abbiamo problemi in Sud America da tutte le parti. Tutti conoscerete la situazione del Venezuela. Il Venezuela vent'anni fa era uno dei paesi più ricchi del Sud America, adesso è uno dei paesi più poveri e insicuri del mondo. Il petrolio ha portato ricchezza, ma le scelte politiche essenzialmente e il calo dei prezzi del petrolio hanno completamente sconquassato il sistema del paese, per cui la situazione in Venezuela è tra le più difficili del pianeta e se ne sa molto poco, perché l'informazione non esce dal paese. Altri problemi sono sanitari, malattie infettive, altri problemi riguardano la distribuzione della ricchezza. In Brasile il 5% della popolazione possiede la metà della ricchezza del pianeta, del paese. Non siamo al livello degli Stati Uniti, ma ci andiamo vicino. Un altro grande problema è quello dell'erosione dei suoli, della perdita di suolo fertile e della deforestazione. È un grande problema dell'area meridionale del pianeta. In questo caso Brasile, Argentina, Bolivia e Paraguay sono i paesi maggiormente coinvolti. Ma il cambiamento climatico va a colpire poi tutte le aree del Sud America e in particolare le aree di montagna, dove abbiamo sistemi di coltivazione e modi di gestire le acque che sono estremamente fragili e vengono messi in difficoltà da questi cambiamenti. Andiamo a entrare più nello zoom con un'immagine che ci mostra la situazione per il Brasile, obiettivo 10 e 12 in questo caso. Abbiamo abbinato due temi, quello della foresta amazzonica, il 20% della foresta amazzonica è stato distrutto negli ultimi 40 anni per far posto ad allevamenti e piantagioni. Vedete di nuovo un problema che coinvolge economia, società, decisioni e ambiente naturale e che ha ripercussione a scala globale. Tutto quello che si fa lì, la distruzione delle foreste per coltivare o per allevare, è legato a produzioni per l'esportazione, non per l'alimentazione all'interno del paese. Quindi è la richiesta internazionale che poi produce i cambiamenti anche nell'ambiente, nel paesaggio, nel sistema territoriale locale dei singoli paesi. Questa economia porta la ricchezza in poche mani ed ecco quindi che il tema della distruzione della foresta si abbina al tema della giustizia sociale. Il Brasile, nonostante lo sviluppo economico degli ultimi decenni, è un paese di fortissime disuguaglianze sociali. I guadagni non vengono ridistribuiti, anzi spesso avvene il fenomeno che conosciamo che è il land grabbing, cioè il furto delle terre dei contadini. Le grandi multinazionali acquistano attraverso accordi con gli stati, con gli enti governativi, quindi sopra la testa dei contadini, acquistano enormi estensioni di terreno e i contadini sono espropriati di queste terre. Dopodiché lavoreranno solo più come dipendenti delle imprese e spesso non avranno più un reddito sufficiente per garantire una sopravvivenza decorosa, adeguata alle loro famiglie. Andiamo verso la fine di questa carrellata e andiamo verso la fine di questa carrellata attraverso il tema degli ultimi obiettivi di cui abbiamo parlato meno nei giorni scorsi dell'Agenda 2030, l'obiettivo 14, 15, 16 e 17. L'obiettivo 14 riguarda la vita nell'acqua, in particolare nei mari e negli oceani. Una vita minacciata oggi soprattutto da due tipi di situazione, il cambiamento climatico e la pesca, le attività umane. Sempre abbiamo le attività umane dietro a questi problemi. Quando questo riguarda il riscaldamento climatico, ciò che accade in primo luogo è l'acidificazione delle acque dei mari. Le acque degli oceani hanno una funzione ecologica straordinaria, raccolgono in magazzina non di decarbonica e quindi danno un contenimento ai problemi del riscaldamento climatico. Però questo assorbimento produce in realtà un'acidificazione, un aumento del pH delle acque e questo piccolo aumento del pH mette in difficoltà molte specie viventi. Una parte della fauna marina non riesce a sopravvivere a questi cambiamenti e in particolare il caso più esemplare di tutto questo è lo sbiancamento della grande barriera corallina. Abbiamo barriere coralline in molte parti del mondo, ma la grande barriera corallina australiana è famosissima per questo. E viene questo fenomeno, i coralli perdono colore, perdono di vitalità e alla fine muoiono. Sapete che il corallo è un conglomerato di moltissime diverse specie viventi, è veramente un sistema ecologico e quindi la sua fine è anche un po' simbolica rispetto oltre che per la bellezza, anche rispetto alla biodiversità sul pianeta. Ecco, la biodiversità è proprio l'obiettivo 15 dell'agenda 2030, proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'economia terrestre, che significa prima di tutto conservazione della biodiversità. Abbiamo un grafico che vedete qua in alto a destra, che ci indica la perdita di biodiversità dal 1900 a oggi, una curva in crescita esponenziale. Secondo molti studiosi siamo di fronte a una estinzione di massa delle specie viventi. La prima estinzione di massa delle specie viventi sul pianeta causata dalle attività umane. È capitato in passato, durante altri periodi geologici, ma non durante questa epoca dell'uomo presente sulla Terra. In questo caso quindi davvero ci troviamo di fronte a uno degli obiettivi centrali, la salvaguardia, la riproduzione e la conservazione della biodiversità sul pianeta. Le foreste rimaste coprono ancora circa il 30% della superficie del pianeta e svolgono una funzione ecologica fondamentale per il clima, per le acque, per la vita. Tutta la storia dell'umanità si sviluppa attraverso il rapporto con le foreste, con gli alberi. Ecco perché è così importante, qui abbiamo una carta che ci permette di localizzare molto bene le ultime aree naturali del pianeta. Non sono aree completamente naturali, sono tutte aree abitate, trasformate anche pesantemente dalle attività umane, ma dove ancora si conservano aree forestali abbastanza estese o aree naturali o semi naturali. Pensiamo alla grande foresta boreale, ai deserti, alle foreste pluviali amazzoniche e africane. Abbiamo visto qualche tempo fa, qualche mese fa, il grande problema degli incendi, quest'inverno in Australia, la scorsa estate nell'emisfero settentrionale. Questi grandi incendi che in qualche modo si aggiungono a tutti i problemi che mettono in difficoltà questi sistemi ambientali molto fragili. Vediamo ancora due obiettivi, gli ultimi due, dell'agenda 2030. Sono promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, il tema della pace e il tema della cooperazione. Vedete due temi che vanno a impattare fortemente quello che è la gestione del pianeta dal punto di vista delle relazioni internazionali, della geopolitica prima di tutto, che è anche legata a come noi interveniamo per compensare questi grandi disequilibri tra paesi economicamente ricchi e paesi economicamente poveri, tra aree che stanno meglio e aree che stanno peggio del pianeta. Su questo ancora due piccole cose. Il tema della pace. Il tema della pace è veramente un tema che va a incrociare i discorsi educativi. Noi dobbiamo sviluppare questo tema che ha come target non soltanto i conflitti, le guerre, ma anche tutto quello che riguarda la violenza, gli abusi, i maltrattamenti, lo sfruttamento, il traffico di bambini e anche la giustizia. Sono tutti temi molto importanti su cui in aula si può lavorare a tanti livelli e ovviamente oggi qui abbiamo parlato della scala più globale, ma ovviamente sempre partendo dal proprio contesto di vita, dallo spazio locale, dal luogo in cui abitiamo, in cui viviamo, anche dalla classe. Si può parlare di bullismo, parlando di questo punto 16, pace, giustizia e anche istituzioni solide, perché la sicurezza viene garantita, ne abbiamo parlato nell'incontro di ieri, da questo doppio rapporto istituzionale forte di politica e società che hanno il compito di gestire queste situazioni quando funzionano bene. E la cooperazione, il rapporto con i paesi in via di sviluppo, il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e anche di conoscenze e competenze che possono permettere di realizzare lo sviluppo sostenibile, cioè di passare da un certo tipo di economia e di rapporto con la natura e l'ambiente a un altro che sia più duraturo e sostenibile. Il principio di fondo dell'agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile è quello di garantire anche un'equità tra generazioni diverse, quindi di garantire alle generazioni future, io direi non solo lo stesso livello di vita e di disponibilità di risorse di quelle attuali, ma anche a un livello migliore, meglio distribuito. È importante sempre far vedere che le cose toccano la vita di tutti noi, la vita futura soprattutto, quando parliamo con degli adolescenti. Ecco, ci avviamo verso la conclusione e su questa conclusione io volevo arrivare con un allargamento anche del punto di vista e suggerire anche una modalità di azione. Abbiamo parlato di Agenda 2030, di punti, di problemi del mondo, di sviluppo sostenibile e abbiamo visto tante situazioni diverse. A ben vedere tutte queste situazioni nascono da un fatto, da un cambiamento avvenuto tra 10 e 12 mila anni fa. Tutta la storia del rapporto umanità-natura, con le strutture anche, che oggi vediamo in atto, è nata tra 10 e 12 mila anni fa, nei luoghi indicati da questa carta. Sono i luoghi dove è nata l'agricoltura, dove il rapporto tra uomo e natura è cambiato ed è diventato un rapporto di trasformazione reciproca, molto forte. La natura è diventata qualcosa che l'uomo ha controllato, ma l'uomo a sua volta ha imparato tante cose studiando la natura e ha cambiato la sua cultura in questo modo. Tutto è partito da una scoperta, quella di poter controllare la natura per avere più cibo, e da un gesto, quello di piantare un seme. E forse anche oggi tutto quello che riguarda lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'Agenda 2030 può essere più semplice e comprensibile se ritorniamo a quell'atto primario di rapporto con la natura, avvenuto 10.000 anni fa, per le prime volte, in alcuni luoghi del pianeta, a quel gesto, piantare un seme, piantare un albero, per cui poi sono nate le società umane, l'economia, la politica, la cultura e quindi anche il territorio. E' il fatto per cui siamo oggi qua a parlare del mondo e di avere la geografia come strumento con cui possiamo parlare di tutti questi problemi e anche avere delle prospettive per la loro soluzione, cioè uno sguardo al futuro. Ecco, questo è davvero anche la speranza e lo sguardo al futuro uno dei compiti dell'istruzione, dell'educazione e dell'educazione geografica. Io chiudo su questa immagine questo discorso. Spero che abbia dato qualche aiuto per il lavoro in aula, per il curriculum, per pensare diversamente la geografia. Ricordo che le immagini e i testi che abbiamo utilizzato sono tratti dai volumi Lerscher, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, da questi volumi di geografia, la via della seta che è stato pubblicato quest'anno, professione geografo che è da qualche anno a disposizione. Mi auguro che questi incontri siano stati utili anche a suggerire un metodo, anche a suggerire un modo di guardare al mondo e anche di guardare in modo diverso la geografia. Non una disciplina, non una materia noiosa, non una materia elencativa che ci dice dove sono le capitali e i prodotti, ma che ci fa vedere come tutte queste cose di cui abbiamo parlato sono in relazione tra di loro. Come tutto quanto, quello che accade nel mondo, ha una dimensione spaziale, ha una dimensione geografica che è fatta di movimento, che è fatta di rapporti tra persone e natura e tra persone e persone. Tutto questo nasce dal nostro stare nello spazio, dal nostro avere anche come singole persone una dimensione spaziale. Insegnare a diventare consapevoli di questa relazione è davvero un compito prezioso per gli educatori e con la geografia si può fare qualcosa che ci permette di guardare come hanno fatto i nostri antenati anche al di là della nostra terra, al di là della nostra valle, al di là della nostra isola, a vedere che siamo parte di un sistema molto complesso nel quale oggi siamo in 8 miliardi quasi ad abitare il pianeta e diventeremo ancora di più. Dobbiamo imparare a stare bene in 8 miliardi su questo pianeta perché il rischio, se non lo impariamo rapidamente, è anche quello di estinguerci, di rendere più brutto il pianeta, di vivere meno bene in questo pianeta e anche di in qualche modo tradire quell'atto primario, straordinario che i nostri antenati hanno compiuto 10 mila anni fa, scoprendo che con la natura possiamo vivere meglio. Io vi ringrazio, ricordo che questo sarà disponibile poi anche in altri sistemi, quindi potrete rivederlo, utilizzarlo, credo anche le presentazioni in PowerPoint, la casa editrice le metterà a disposizione completamente anche questi materiali.